Ciao a tutta la gente, vorremmo pagare un cuoricino però su cosa perché è rimasto per ascoltare noi, quelli figli di blues vogliamo salutare tutti, vogliamo soprattutto dire una cosa importante che qualunque lavoro faccia, ah beh, sì sì, lavoro facciate per vivere qualsiasi, chiunque voi siate, voi, voi, c'è qualcosa di importantissimo c'è qualcosa che ci rende tutti uniti, insomma tutti quanti, voi, me e loro, tutti quanti a tutti Grazie per la visione 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 Grazie per la visione